Buonasera, ben trovati, siamo quasi in perfetto orario quindi direi che è quasi un record. Benvenuti a questo convegno, conferenza dal titolo Patologie ambientali e lavorative in Toscana, Epidemiologia e Geotermia. Allora, è un convegno un po' diverso da quelli che fino adesso ha organizzato l'Osservatorio Nazionale Amianto perché forse per la prima volta prevede degli interventi particolarmente approfonditi su un argomento che è poco esplorato, quello della sinergia tra diverse fonti inquinanti, in particolare questo pomeriggio affronteremo il problema della combinazione tra inquinamento da impianti geotermici e inquinamento da amianto. Si parte come sempre dai numeri, i numeri sono quelli purtroppo che parlano di malati e di morti per mesotelioma e per le patologie asbestocorrelate. I numeri dicono che secondo il registro dei mesoteliomi della Toscana, ovviamente questa sera faremo dei riferimenti in particolare al territorio in cui ci troviamo, ha registrato tra il 1993 ed oggi 1.694 casi di mesotelioma. Dal 2008 ad oggi questi casi sono 724, quindi facendo dei conti possiamo dire che abbiamo una media di casi di mesotelioma di circa 111 casi l'anno. Tenendo conto che fino al 2008 i casi registrati erano invece una media di 70 l'anno, l'aumento negli ultimi anni è circa del 50%. Quindi insomma vedete che i dati da cui stiamo partendo sono particolarmente allarmanti. Ovviamente a questi poi si devono aggiungere i casi di tumori polmonari che sono considerati quasi il doppio dei mesoteliomi normalmente dalle tabelle e tutti gli altri tumori che si possono riferire anche all'amianto, quindi quelli delle vie respiratorie, quelle del tratto gastrointestinale e le patologie neoplastiche, quindi anche non tumori ma tutte le patologie asbestocorrelate. Ovviamente approfondiremo questi numeri ma era soltanto per darvi un po' un quadro di inizio. Allora, questa sera iniziamo però con la musica. La musica è del cantautore Marco Chiavistrelli, lui si dedica alla scrittura di canzoni e alla musica ma in realtà è anche un ex lavoratore di una centrale geotermica della Toscana, quella di Larderello, a cui quindi possiamo dare, non dico la parola ma la nota, una canzone che si intitola Vapordotti dedicata a una cooperativa che lavorava proprio in questo impianto di geotermia e che l'ON ha deciso di scegliere come canzone simbolo della battaglia per il riconoscimento dei diritti delle vittime d'amianto. Prego. Grazie. 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 Grazie soprattutto a un piccolo comitato e grazie a me che mi riusciva a trovare i siti inquinati anche perché da piccolo ho girato tutti quei boschi lì, quindi ho trovato una cinquantina, cento, migliaia e migliaia tonnellate di amianto. E grazie a Franco Berti che ci ha raccontato questa storia di una cooperativa estinta proprio da sbesto nel disinteresse, nel vuoto, nel silenzio, nel ghiaccio generale, ho scritto questa canzone. Solo questo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 All'ospedale ho tutti i mesi, vado a fare controlli e ho le piastrine a 40. Io saluto tutti i mesi, io ti ringrazio. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. perché Grazie a tutti. 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 sulla materia di Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. è in vendita. Grazie a tutti. con tutti. Buonasera. Grazie a tutti. 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 assistiamo. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io vorrei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e tutti. gli orti. e tutti. tutti. oggi ci sono. e tutti. Voi pensate. che su 4. su 4. 4 tonnellate che bruciano in Germania. nuova pista. dell'aeroporto. e lì ci sono stati. 100 anni di 100 anni di anche di 1. metri. ha chiesto. cose da fare. ancora. degli aeroporto. a livelli. lo cercano di sfruttare. il più possibile. cambieranno. totalmente. sul duomo. in decollo brucia. dai mille. litri di ferro. in su. anche perché per quanto riguarda anche l'attenzione sintetico. buonasera. a tutti. un po' senza senza. sanitaria. che assiste. gratuitamente. gratuitamente. come a livello. perché sono. adesso c'è. una impunità. per i carne. e inizio. profitti sulla salute umana. Devono capire che affinché combattono con la giustizia italiana per loro va sempre bene, tra una prescrizione e l'altra lo fanno quasi sempre franca, allora io dico che dobbiamo organizzare. Loro hanno distrutto la mia vita e la mia famiglia e hanno ucciso mio marito e dopo due anni è morto anche mio cognato, due fratelli hanno vissuto la stessa sorte, lo stesso macro destino. Io dico che li dobbiamo stanare, io dico che li dobbiamo anche prendere e dico che la devono pagare, ma dico che voglio vendetta, ma che voglio giustizia. Quindi benvenga la costituzione di un corpo di volontari chiamato Cacciatori dell'Amianto, così come è successo per i criminali nazisti perché anche qui è stata studiata la situazione finale come disse il Presidente della Corte d'Appello di Torino all'inizio del processo Eternit di Appello e quindi si vuole una nuova Norinberg per i crimini di Amianto. Spero che la sfida lanciata dall'Ona di una nuova Norinberga per i crimini di Amianto venga accolta. E questo è tutto. Come ha detto il Signore che lo sta vivendo sulla sua pelle, cosa vuol dire vivere accanto a una persona che purtroppo ha l'Amianto addosso, al mesotelioma e le cure? Ma è la sofferenza. La sofferenza che poi tra l'altro porta a una distruzione anche della famiglia. Perché ti porta fuori proprio dalla tua vita. Grazie e scusate. Buonasera a tutti. Io appunto mi chiamo Posarelli Massimiliano. Vengo da Rasignano Sorbet, famoso per le spiagge bianche e faccio parte, sono coordinatore dell'Ona, appunto di Rosignano. E niente, mi sono scritto queste parole perché vorrei far passare proprio un messaggio che è quello, un messaggio di sofferenza dei nostri papà o dei nostri colleghi, amici che hanno lavorato a contatto con l'Amianto. Allora, premesso che l'Amianto per me rappresenta il fallimento di tutta la classe politica, della dirigenza industriale in Italia, della scuola. Qui dico della scuola perché credo che i nostri ragazzi devono essere istruiti sulla pericolosità dell'Amianto per l'uomo. Nelle scuole non c'è discussione su questo argomento perché tanto viene non è dato per scontato che ormai essendo l'Amianto bandito dal 92 non ce ne sia bisogno di parlarne, anche perché forse nel parlarne potrebbero emergere delle verità nascoste. Io stasera vorrei provare a esprimere pensieri e concetti che ricevo ogni giorno dalle tante storie raccontate e spesso scandite a bassavoce da ammalati terminali come mio papà che ormai ci ha lasciati dal novembre del 2010 e colpevole di aver lavorato a contatto con l'Amianto e di averlo respirato senza alcuna protezione. Ho avvertito sentimenti, espressioni e immagini forti. Ho visto sguardi con occhi fissi e pieni di lacrime. Si parla di sofferenza, di tragedie senza lieto fine, di disperazione, di supplicazione alla morte per porre fine al dolore, di esaspirazione, di trepidanti attese per sofferenze incombenti, di angoscia, di rancore, di rivendicazioni, alle volte anche di odio, che si affaccia nonostante gli sforzi per trattenerlo, surrogarlo o trasformarlo in qualche altra cosa. Si parla di crimini, criminali e mascalzoni avvezzi all'impunità, di violenza, di esiti perversi, di azioni profittevoli ed eccezionali risulta la ricerca per dare un senso al dolore e anche alla morte, mentre al perdono o alla carità, per quei carnefici si accenna solo in modo sporadico, nonostante molti degli offesi siano anche decredenti. Sono questi gli argomenti che sento e ho sentito narrare da quei poveretti, che non solo si sono spezzati la schiena per un pezzo di pane, ma alla fine ci sono pure atrocemente ammalati o morti. Adesso io mi rimane una forte sete di giustizia e vorrei che tutta l'umanità si riconosca in pieno nelle vittime dell'amianto, individui anche con processi corali e con danni colpevoli e le loro malazioni. Poi per finire vorrei dedicare un'attenzione particolare alle famiglie e all'associazione delle vittime come l'Ona, di cui io ne faccio parte e ne sono orgoglioso e fiero. Grazie Ona e grazie Presidente. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. La questione della geotermia l'abbiamo studiata a fondo anche per la Toscana, ci sono tre mesi che stiamo studiando giorno e sera e ultimamente sto studiando pure per la Toscana e ho trovato dei documenti importanti da dirgli sia al consigliere regionale che a senatrice Pagliarini. Per il primo pezzo lo dice... insomma questa è la relazione che abbiamo preparato che sintetizza un po' i passaggi più importanti che abbiamo trovato. Quindi vabbè c'è una premessa diciamo dall'analisi della cronistoria raccontata attraverso la successione di leggi, protocolli di intesa e delibere della regione toscana riferiti e qui è proprio la regione toscana che è coinvolta e che sarebbe bene che seguisse. Sì un po' di silenzio per favore. Riferiti alla società Enel o Enel Green Power si evincono diversi elementi che destano preoccupazione. Un primo passaggio significativo avviene nell'88, viene fondato il COSVIG, consorzio tra alcuni comuni, province e comunità montane. Nel 2001 con un accordo di programma, documento del 16 dicembre, stipulato tra regione toscana, province di Grosseto, Pisa e Siena, i comuni di Pomarance, Montieri, Monteverdi Marittimo, Monte Rotondo Marittimo, Monte Catini, Val di Cecina, Chiusdino, Castelnuovo Val di Cecina, Radicondoli e le comunità montane delle colline metallifere, dell'Alta Val di Cecina, della Val di Merse, la regione stringeva un'intesa progettuale sulla geotermia legandosi all'Enel e al gruppo di comuni e enti sopracitati, realizzando due realtà consortili, la COSVIG e l'ERGA S.P.A. Nella premessa dell'accordo di programma si legge che lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili, la cogenerazione con gas metano, la produzione energetica derivante da rifiuti o prodotti di risulta del loro trattamento, nonché iniziative di ottimizzazione del sistema energetico, rappresentano obiettivi del piano energetico regionale. Quindi la regione toscana ha come obiettivo del piano energetico lo sviluppo di produzione di energia da affiancare alla geotermia derivante da rifiuti prodotti di risulta del loro trattamento. Già nel 2001, quindi nanoparticelle, ne vediamo delle belle, viene dichiaratamente espressa la volontà di associare la geotermia alla cogenerazione, cioè di ricorrere a un processo di combustione ottenuto anche da rifiuti per innalzare l'energia termica ottenuta. Tale obiettivo viene riconfermato nel 2013, dichiarato in un verbale di seduta del 29 gennaio, vado avanti, dove dice che nell'intesa tra regione e Enel si specifica che si otterrà produzione energetica da biomasse e esprimendo un comune interesse a favorire in Toscana produzione energetica rinnovabile da filiera corta per le biomasse e dal ciclo dei rifiuti. Poter ricorrere alla combustione dei rifiuti significa ovviamente andare a peggiorare enormemente la già grave situazione delle emissioni delle centrali geotermiche. Seppur i documenti che riguardano gli accordi tra regione e Enel parlano della funzione che le centrali geotermiche hanno a riguardo della riduzione del CO2, peraltro citano in più occasione la necessità di affidare all'ARPAT il monitoraggio della qualità dell'aria. Già nel 2001 fu redatto un rapporto, tutte le emissioni in salto perché sono quelle dette oggi, quindi vari inquinanti ambientali, nel successivo protocollo d'intesa di nuovo viene citato nell'articolo 6 rispetto alle sostanze inquinanti, Enel si impegna a consentire la realizzazione da parte dell'ARPAT di un piano rivolto alla conoscenza delle emissioni principali. Tornando alla cogenerazione e all'impiego di rifiuti nella produzione di energia rinnovabile integrata a quella geotermica, c'è una delibera del gennaio 2013 della giunta regionale toscana che dichiara che la regione ed Enel e quest'ultima attraverso Enel Green Power si impegnano a favorire esperienze produttive della cosiddetta Green Economy, rivolte a individuare soluzioni tecnologiche per teleriscaldamento, produzione di nuovo di energia da biomasse per il riscaldamento attraverso la tecnologia della pompa di calore. Nel 2009, quando viene firmato il protocollo di intesa tra regione toscana, Enel, Cosvig e i comuni che a quel punto poi erano aumentati rispetto a quelli precedenti, c'è uno statuto che dichiara che Enel da parte sua pone queste condizioni comuni, queste sono le condizioni che pone Enel, obbliga tutti i soci del consorzio a fornire alla società la più ampia collaborazione, obbliga a osservare lo statuto e le deliberazioni favorendo gli interessi della società. Quindi con questo accordo del Cosvig tra comuni che ne fanno parte ed Enel, Enel richiede loro di favorire in tutti i modi gli interessi della società. Il protocollo di intesa stabilisce che Enel corrisponde ai comuni, attenzione inclusi nell'accordo, contributi e canoni annui pari a circa 10 milioni di euro. Dal 2008 al 2024, data di scadenza delle concessioni, verranno raddoppiati quindi i benefici finanziari per la regione per una cifra di 650 milioni di euro. Per concludere, quello che è interessante vedere è che Enel corrisponderà per le concessioni entro il 2024 compensazioni ambientali e territoriali per 130 milioni di euro. Questo ci conferma la consapevolezza dei possibili danni ambientali originati dallo sfruttamento geotermico. Volevo continuare io? Allora, nel 2013, sul bollettino ufficiale del dicembre 2013, la rete geotermica hanno fatto un protocollo di intesa. Alla data di sottostruzione del presente protocollo costituito dalle seguenti soggetti industriali. Graziella Grin, Tosco Gea, Magma Italia, Ex Energy, Termomeccanica Co Energy, Sammini, Ateese e Pozzi. Poi la regione toscana, rispetto agli impegni assunti con la presente protocollo che non comportano orneri finanziari, si potrà avvalere del distretto tecnologico regionale delle energie rinnovabili della Green Economy di IRPET, COSVIC, ENERGHEA, società consortile tra Sant'Anna, UNIPI e COSVIC. Tra l'altro ci stanno due istituti qua in Toscana che stanno insieme all'accordo di programma, la Scuola Superiore di Studi Sant'Anna e l'Università di Pisa. E ricordo all'accordo che hanno fatto col COSVIC e tutti questi, c'è l'articolo 2 della tutela ambientale. Se per tutela ambientale c'è una sentenza... Abbiamo solo un minuto, quindi dobbiamo chiudere. Sì, e questa è una cosa importante. Al 2007 c'è una sentenza del Tribunale, penso dalla Toscana, che condanna per emissioni dell'aria l'enitrim power a tre persone per 220 mila euro circa. C'è proprio la sentenza. Poi sulla geotermia c'è un altro problema grosso che è la bassa entalpia. La bassa entalpia, che è fino a 90 gradi, la Regione Lazio sta a manare una legge, pure lì abbiamo fatto le modifiche a cercare di modificare tutto, perché loro vorrebbero rivellare fino a 400 metri di profondità, vorrebbero estrarre anche l'acqua calda, compreso l'uso di acqua sicurcanti da sorgenti, per produrre fino a 2 milioni di watt. Io ho fatto un calcolo, 2 milioni di watt, ho fatto un programma, diciamo, a un altro progetto in Arti Italia, che addoprono 50 watt a metro quadro e finirebbero a 40 mila metri quadri per un pianto geotermico a bassa entalpia. Queste non sono piccole utilizzazioni locali, bensì quasi vanno centri commerciali, scuole e altre cose. Poi oltre alla cogenerazione c'è la tricogenerazione, abbinamento geotermia con le biomasse. Con la tricogenerazione invece da addoprare due impianti, ne se ne addoprono anche tre. Per fare un esempio, a geotermia Quanto ha per concludere? Perché ci stanno per spegnere le luci. Ti prometto che alla prossima conferenza parli tra i primi. E l'ultimo per averla conferma di quello che avevo detto sulla bassa entalpia, il primo fu nel 2008 al centro commerciale di Ikea, Corsico e Milano, 33 mila metri quadri di trivellazione per una geotermia a bassa entalpia. Queste le sonde le mettono all'incirca tra i cinque e sei metri. L'ultima, sempre Ikea, in Emilia Romagna, Parma, 5500 metri di trivellazione. Qui c'è da cambiare le leggi, con l'aiuto dei Bonanni, con i parlamentari di tutto, a ridurre queste... sia allevare la cogenerazione e sia abbassare i 400 metri. So che in Regione Puglia, mi pare, o l'hanno approvato, o l'hanno approvato e l'hanno risposta a 150 metri. C'è tanto da dire? Allora, Leone, io ti ringrazio, metteremo agli atti, manda all'Avvocato Rossi la tua relazione e verrà messa agli atti. Ringrazio tutti, il Consigliere Quartini, la Regione Toscana e tutti quanti per l'ospitalità e tutti i partecipanti. Grazie. Grazie.